Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, che Prato sarà, che Prato sta nascendo? Stanno nascendo un bel gruppo, stanno nascendo un gruppo importante, un gruppo degno del nome del Prato per cui noi metteremo tutti gli strumenti al Bister per fare bene, per cui saremo il Prato e saremo una squadra importante. Ecco, è un gruppo giovane, l'abbiamo visto, un gruppo di ragazze che piano piano sta nascendo, 15 giorni di ritiro, si va incontro a altri due amichevoli, che Prato ha visto in campo? Senti, io ho visto un Prato determinato, un Prato che chiaramente è una squadra nuova, che sta nascendo, un gruppo compatto, stanno facendo veramente bene, stanno lavorando bene, il tecnico è un tecnico preparato, giovane, per cui abbiamo tutti i mezzi per fare bene. È una squadra che chiaramente è nuova, sta nascendo e mancano ancora alcuni pezzi che stanno arrivando. Ecco, andiamo invece al discorso del fatto che questo è il Prato. Ecco, tanto entusiasmo nei confronti della nuova società, nei confronti del mister, nei confronti anche di questa squadra che ha l'obiettivo di comunque sia stupire in questo campionato, comunque sia di far bene. Questa squadra farà bene perché la società è una società che vuole far bene, a noi serve l'entusiasmo di tutta la piazza, l'entusiasmo dei tifosi, per cui l'entusiasmo può portarci dove veramente nessuno può portarci. Per cui noi crediamo fermamente in questa situazione, in questa città e il Prato dovrebbe calcare ben altri palconi scenici, non quelli della Serie D.